Benvenuti amici dal Cielo Video, ci troviamo a Pescara Comic Convention perché sarò qua a fare delle domande altamente scientifiche Siamo qua con il grande ritorno del Tarka E' Pasqua, è Pasqua Grandissimo Tarka, bello come sempre ma adesso faremo delle domande altamente scientifiche a Silvia Dicci un argomento in cui sei preparata Ma io ho dato l'ultimo esame poco fa Di cosa? Scienze dell'educazione Scienze dell'educazione, perfetto Allora faremo una bellissima lezione sulla chimica Quali sono i gas nobili? Perché sono nobili questi gas? Non lo so E per la scienza in cucina oggi parleremo di alcol Quali sono gli effetti negativi dell'alcol? L'effetto negativo dell'alcol è che ti fa scrivere messaggi a persone a cui non vorresti scrivere cose o scene che il giorno dopo te ne pentirai No, ma gli effetti biologici Non ci sono effetti Non puoi avere effetti collaterali se non smetti di bere Non lo so Ho capito che non lo sai Ma secondo te perché li hanno chiamati nobili? Perché sono importanti? Oh, perché sono importanti? Perché serviranno qualcosa A cosa servono? Ti faccio un esempio Il neon Il kripton Dai, kripton Sì, mi viene in mente la kriptonita Il tuo amico qui ti ha tirato un'unghia Che cos'è l'unghia? L'unghia è una parte del corpo che sta in fondo alla falange Di che cosa è fatta? Questa qui è di plastica Un'unghia vera, di che cosa è fatta? Di cheratina Brava, che cos'è la cheratina? È una sostanza Sostanza È una molecola Ma scusa Prego, prego Ci sono le piste ciclabili, porco Milioni spesi dalla comunità europea In piste ciclabili e mi passano di qua Sennò smetti di bere Non puoi avere mal di testa Perché sei sempre ubriaco Quindi sempre ubriaco Allora, quali sono gli effetti benevoli dell'alcol? Gli effetti benevoli dell'alcol? Sei più felice Ci provi con più gente Sei più figo anche Fa avere un rapporto più simpatico con la gente Lo so, ma ti affanculo una persona più semplicemente Quindi io sarei ubriaco dalla descrizione sua Wow, Albe Ma che cos'hai preso? Ho preso il bubble tea Wow, facciamolo vedere Ma che cosa sono queste palline? Sono palline di agarosio? Di Nicaragua Servono per fare colonie di batteri? Farli crescere? No, te lo dico io a che cosa servono? Servono per purificare le proteine Sì, ma che schifo Mi sai dire come sono i micropori di queste palline di agarosio? Perché magari in base al peso molecolare Mi è passato l'appetito Qual è la tua proteina preferita? La cocaina Ma non è una proteina Qual è la tua proteina preferita? Dai, una Allora il saccarosio Non è neanche quella proteina Guarda, ma mi becchi però Io sul cibo sono proprio niente 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 scienza in cucina? No, ma io cucinare? Ma proprio no Cioè potete morire tutti se cucino io Niente Io vi so ordinare la pizza sotto casa Sono molto brava Ecco, la pizza è fatta con la farina, l'acqua E poi se ci metti il pomodoro, la mozzarella Ecco, la mozzarella è fatta dal latte, no? Qual è la proteina principale del latte? Ma se ti dico che non lo so È facile Una casa? Caseina Bravo Allora il paciuli Adesso Hitler ci dirà quali sono le sue proteine preferite La mia proteina preferita è il triptofano Poi è la... Agricoltura Come si coltiva il pesco? Come si coltiva il pesco? Si prende un nocciolo di pesco Ma che domanda? Nocciolo di pesco Due Un nocciolo di pesco Due Lo si fa germogliare Dopodiché quando comincia a fare le radici Si pianza nel terreno Sì E poi? Poi si fa crescere Come? Così dai Cresci Cresci C'è il motivatore Vieni Motivatore No gli si fa Cresci 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 Signore vi manda all'ospizio Porca miseria Milioni nella comunità europea in spizzi e mi passano di qui mi passano milioni Diurni per anziani inutili perché tanto passano di qui È una cromoproteina tetramerica con un gruppo M È semplice si chiama Io sono un killer Uccido la gente Non vengo Uccido la gente Appunto no Stavamo dicendo l'elio perché fa volare le cose Perché è leggero Oh Quando tu uccidi qualcuno esce cosa? Il sangue Cosa c'è nel sangue? I globuli rossi Oh ecco dentro il globulo rosso che prende l'ossigeno che cos'è? C'è Guarda se ti faccio così Chi è che si taglia? E i Chi? Sai quelli con la frangina no? Siamo in tema giapponese quindi parliamo della bomba atomica Eh Va bene? Dimmi qualche fisico che ha contribuito alla creazione della prima bomba atomica Dai uno era italiano è facile l'italiano come si chiama? Non ne ho idea non mi piacciono le cose brutte Come? È bella la bomba atomica è bella Noi del maid siamo contro le bombe atomiche No no bisogna essere a favore Avete le centrali nucleari in Giappone grazie alla bomba atomica Eh ma come si chiamavano? Ti ricordi che c'erano la frangia nera? Il trucco? Tutti bianchi Bianchi che si tagliavano Eh? 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 Da culi ovunque Eh? Emo? Emo? Oh, Iemo? Emo? 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 Unisci le parole Globo Vittina 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 E' globino Emo Dai ridilla Emo 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 globino Oh un applauso Vinci un premio superquart Qual è la tua proteina preferita? No basta con queste domande Basta con queste domande E' questo l'argomento Proteina? Non lo so Altra domanda Puoi chiamare un aiuto? Aiuto a casa dai Aiuto a Pokemon Aiuto a Pokemon Non va Non va Ma che Pokemon è? E' Vaporneon Ah Vaporneon Già perché I cosplayer sono soft porno Qual è la tua proteina preferita? Il lattosio Guarda come mi fa bene a me il lattosio Il lattosio? E' uno zucchero? Eh no Per me è una proteina Ah Mi ha detto lei Bravo Suggerisci male Suggerisci male Il glutine Il glutine è una proteina Giusto? Sì Ma te non hai due lauree Vai via Vai via Vai via te le tue lauree Muoio Ma la scienza vive Puoi fare un saluto a casa? Ciao mamma Sì Lorenzo Pinna Lorenzo Pinna Non sono morti Sono immortali E' che si sono ritirati E' che si sono ritirati Hai capito? Questi Tipo Star Wars Ciao Super Quark Dai io continuo a salutare mia mamma Perché non la vedo mai Io saluto Super Quark Ciao E da Pescara è tutto Vi lascio a Super Quark Che segue su Rai 1 Dopo di noi Vi ricordo di lasciare un like Condividere Commentare E No ragazzo Le scie chimiche Guarda Con il cane E' pieno Esistono E ora Una lì Una lì E non l'hai vista No quella non l'ho vista Però quella si è No quelle Quelle Ma Ma Sì Troppo La bestia Mi sento più scemo Coprano anche tutte le stelle Mi sento la mente controllata Quante le stelle? Una Due Tre Quattro Cinque stelle Basta Cinque stelle Cinque stelle No i cinque stelle No i cinque stelle E ora ho messo il bambino Ho la mente controllata Oggi andiamo tutti in fiera C'è qualche cosplay Chi lo sa Luca Napoli o Pistoia Ma senza l'aceto Non si va C'è sceltoni La giocciaretta Ma chi ama 9 Di Lucky Star E Sì Sì Ahahahah! Obvio non ti manca! Non ti manca! Non ti manca! C'è la Russia!